Buonasera, benvenuti all'ultima edizione del nostro telegiornale. In primo piano la situazione Covid nel nostro Paese. Oggi si registra un lieve calo di nuovi contagi, ma con un numero minore di vittime, 18. Il Governo è al lavoro su un provvedimento con nuove misure di prevenzione, estendere a tutto il territorio nazionale l'obbligo della mascherina all'aperto e imporre limitazioni per feste private e cerimonie. Una stretta su feste private e cerimonie, più controlli nelle zone della Movida e se necessario chiusura anticipata dei locali, l'elenco delle possibili misure che il Governo si appressa a varare nel nuovo decreto che sarà firmato mercoledì si allunga con il passare delle ore e con la conferma della tendenza ad un aumento dei contagi. L'obiettivo è quello di evitare un nuovo lockdown generale che nessuno vuole e come ha ripetuto il Premier Conte, l'Italia non può permettersi. Così, oltre all'obbligo di indossare la mascherina all'aperto in tutta Italia, come già accade in molte regioni, si pensa a limitare il numero di partecipanti a battesimi e matrimoni, oltre che a feste private, che in molti casi hanno costituito la fonte di nuovi cluster in tutta Italia. L'indicazione arriva dal Comitato Tecnico Scientifico che teme un ulteriore rapido peggioramento della situazione e ritiene necessaria una stretta che possa invertire la rotta. I dati di oggi, 2.578 nuovi casi, hanno fatto segnare un lieve calo rispetto a ieri, dovuto però al minor numero dei tamponi processati, come sempre accade nel fine settimana. Ma si tratta comunque di numeri poco confortanti, dove spicca il dato della Campania con ancora oltre 400 nuovi contagi. E anche il campionato di Serie A è a rischio Covid. Stasera non si è giocato Juventus-Napoli per l'assenza dei partenopei, che hanno due giocatori positivi, partita che per la Lega Calcio si doveva giocare come da protocollo, omologato il 3-0 a tavolino per i bianconeri, ma ora si apre la battaglia legale. Non disputata per assenza di una delle due squadre. Il referto di Juve-Napoli apre ufficialmente lo scontro giuridico sportivo. Da una parte la Lega Calcio, che ritiene ingiustificata questa assenza in base a regole certe che consentono la disputa di un match, pur in caso di positività, prevedendo dunque la sconfitta a tavolino e un punto di penalizzazione, dall'altra il Napoli, che invoca la causa di forza maggiore, ovvero il diniego alla partenza da parte dell'azienda sanitaria locale, preannunciando ricorsi in sede sportiva ed ordinaria. Ma questa non è certo solo una contrapposizione giuridico-sportiva. In gioco è la prosecuzione del campionato stesso, per il quale regole faticosamente validate nei mesi scorsi sembrano improvvisamente sbriciolarsi. I ministri competenti, così come il Comitato Tecnico Scientifico, hanno in sostanza scardinato la norma che ha permesso la ripartenza dei campionati, ovvero la possibilità di isolare singolarmente gli eventuali contagiati, consentendo l'attività al resto della squadra, subordinando invece la decisione finale alle aziende sanitarie regionali, le ASL. Il dietrofront normativo, imposto dalla crescente pressione dei contagi, rischia però di scatenare il caos. Se finora si è potuto giocare anche in caso di singoli giocatori contagiati, proprio in forza della norma a suo tempo validata dallo stesso CTS, ad esempio Torino-Atalanta o Crotone-Milan, da stasera nessun club è certo di poter scendere in campo, anche in caso di contagi isolati senza ok di un'autorità esterna. Domani è previsto un incontro tra il ministro dello sport Spadafore e i referenti calcistici. Un incontro già in agenda da tempo, ma che improvvisamente rischia di essere l'ultimo orgine per ridare qualche certezza di regolarità di svolgimento a un intero movimento. Buone notizie per il presidente Trump. Le sue condizioni migliorano e potrebbe essere dimesso già domani, tre giorni dopo il ricovero all'ospedale militare del Maryland. Intanto stasera il presidente è uscito per salutare i suoi sostenitori e in un video ha detto di aver imparato la lezione sul Covid. Potrebbe essere dimesso già domani Donald Trump praticamente a tempo di record, visto che secondo la stampa americana avrebbe avuto la febbre quasi a 40 e due crisi respiratorie che hanno obbligato i medici a somministrargli dell'ossigeno. L'annuncio di Sean Connelly, il leader del team di medici che hanno in cura il presidente, è andato oltre le previsioni, visto che sempre secondo Connelly ieri Trump non era ancora fuori pericolo. Le notizie in generale sono infatti contrastanti. Lo stesso Trump, secondo Vanity Fair, venerdì ha avuto paura di morire e tuttavia se l'è presa con il suo capo di gabinetto Mark Meadow per avere fatto trapelare che le funzioni del presidente erano state preoccupanti. La Casa Bianca in campagna elettorale cerca di minimizzare l'accaduto. Vengono mostrate foto con Trump al lavoro ed un video nel quale l'inquilino della Casa Bianca afferma di sentirsi molto meglio e di volere tornare operativo per continuare a fare l'America grande. Da Walter Reed però fanno sapere che al presidente è stato somministrato un potente antinfiammatorio steroideo che secondo il New York Times in genere è riservato ai pazienti Covid gravi. La politica interna, clima sempre più incandescente tra i Cinque Stelle, Davide Casaleggio minaccia lo strappo dal Movimento se questo dovesse cambiare la sua identità per diventare un partito. Non potrà mai essere come alle origini, tenta di mediare Roberto Fico. Nell'undicesimo anniversario della fondazione del Movimento Cinque Stelle Davide Casaleggio lancia l'affondo con un post sul blog delle stelle. Il suo è un out-out. Se i pentastellati si trasformeranno in un partito non ci sarà più il supporto della piattaforma Rousseau scrive il figlio del fondatore Gianroberto che ricorda lo spirito delle origini e fa balenare la possibilità della scissione. Se ci fosse un gruppo che rimane fedele all'idea originale Rousseau continuerà ad essere accanto a questa idea. Avverte. Post non a caso rilanciato da Alessandro Di Battista sempre più in rotta con l'ala governista del Movimento e in sintonia con Casaleggio e che trova la reazione dura dei garanti Cinque Stelle Vito Crimi, Giancarlo Cancelleri e Roberta Lombardi sulla pagina Facebook del Movimento. Il post pubblicato in data odierna sul blog delle stelle a firma Davide Casaleggio rappresenta una sua iniziativa personale arbitraria diffusa attraverso uno strumento di comunicazione ufficiale del Movimento Cinque Stelle replicano. Mentre Luigi Di Maio rivendica i passi avanti fatti in questi anni il presidente della Camera, Roberto Fico, prova a mediare. Occorre compattarsi sui temi e individuare un'organizzazione adeguata a quello che il Movimento è diventato e a quello che vuole ancora essere. È pesantissimo il bilancio dell'ondata di maltempo che ha investito le regioni del Nord-Ovest, in particolare la provincia di Cuneo, in Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria. Sette le vittime, ma c'è ancora un disperso, danni ingenti in diversi comuni, alcuni dei quali sono ancora isolati per le frane causate dalle abbondanti piogge. In Liguria oggi cinque corpi sono stati ripescati dopo le forti mareggiate. Massima allerta per il Po, il cui livello è salito di sei metri in poche ore. Chiudiamo con il calcio giocato. Terza giornata in Serie A. Atalanta e Milan a punteggio pieno, pari tra Lazio e Inter. In attesa di conoscere i futuri esiti della sfida non giocata tra Juventus e Napoli, il campionato dice che in testa alla classifica a punteggio pieno c'è ora la coppia Atalanta-Milan. Straripanti ancora una volta i bergamaschi, che viaggiano ad un'impressionante media di 4,3 gol a partita. A subire la manita nerazzurra è stato il Cagliari, piegato dalle reti di Muriel, Gomez, Pasalic, Zapata e del neoacquisto olandese Sam Lammers nel 5-2 finale. Non da meno è stato il Milan che ha sbrigato nella ripresa la pratica spezia grazie alla doppietta del signore opaco Leão, inframezzata dal bel gol di Teornandes. 1-1 invece tra Lazio ed Inter al termine di una sfida accesa. Alla rete di Lautaro nel primo tempo ha risposto Milinkovic nella ripresa con un bel colpo di testa, cui ha fatto seguito la doppia sceneggiata di Arturo Vidal I e Patrick Poi e che ha mandato in confusione l'arbitro guida con i cartellini rossi sventolati ad immobile e sensi. Secondo successo per il sorprendente benevento di Pippo Inzaghi che risolve la sfida interna col Bologna grazie alla deviazione sottoporta di La Padula a metà ripresa. Primi importanti tre punti invece per il Parma che smuove la sua classifica grazie alla rete dopo 30 secondi di Kurtic, sufficiente ad avere la meglio su di un Verona in piena emergenza. Ed è tutto, l'informazione torna domattina alle 7 con la rassegna stampa. Grazie per essere stati con noi e buonanotte.